In un luogo così ricco di fascino e circondato da un'aurea magica come il parco della colonia montana, non poteva mancare uno spettacolo fiabesco. Proprio le fiabe, irriverenti, esplicite, romantiche, divertenti e talvolta anche cattive, hanno rappresentato il leitmotiv dello spettacolo messo in scena da Alessandro Haber e Giuliana Desio al festival a Gerola sui Sentieri degli Dei. Io non sono mai stato qua a Gerola, è bellissimo, via dall'albergo, questo strano albergo dove insegnano a cucinare. I due attori hanno presentato Favolosi, un recital nuovo e frizzante che prende spunto dalle favole di Gian Battista Basile. Come vedete è molto improvvisato dove si canta, si recita, si raccontano fatti di vita, è proprio spettacolo a 360 gradi, c'è tutto, c'è di tutto dentro. Un live carico di vitalità e fantasia che, anche quando tratta temi difficili, non risparmia risate, seppure amare, al pubblico presente sul Belvedere dal quale lo sguardo fonde, in un illusorio quanto rigenerante abbraccio, i faraglioni di Capri e Punta Licosa. Cioè vorrei che tutti i parcoscenici fossero come questo. Cosa vogliamo di più? Cioè il mare, l'albergo che ci ospita, la location dove facciamo lo spettacolo, il mare, i faraglioni, è un sogno, è veramente bellissimo. I racconti portati in scena da Haber e Desio hanno condotto gli spettatori in un viaggio magico e viscerale dal nord al sud, ribaltando i canoni fiabeschi attraverso storie surreali appartenenti alla nostra tradizione, senza però mai cadere nella banalità. Uno spettacolo didattico, perché il Festival è anche un'occasione per riflettere, per allargare gli orizzonti, in un posto dove già l'orizzonte è larghissimo, per poter confrontarsi con quelli che sono gli elementi di crescita di una personalità. Da piccoli ognuno di noi ha ascoltato favole, da piccoli ognuno di noi ha imparato a conoscere la vita attraverso il mondo delle favole. Giuliana e Alessandro ci guideranno in questo cammino tra musica, note, racconti, usando le favole di Basile, che sono un patrimonio inestimabile della nostra cultura e della nostra tradizione, facendoci fare una serata esperienziale. Andate a teatro, andateci sempre!